Se fosse un colore sarei bianco, perché questo colore mostra onestà, perché è pulito come il cervello di un bambino, perché posso disegnarci sopra quello che voglio. Se fosse una stagione sarei la primavera, perché la primavera è bellissima. In questa stagione si aprono le gemme, il grano e le piante, e la pianura sono verde, il cielo è blu, le nuvole bianche. Se fosse un elemento della natura sarei acqua, perché l'acqua è ricca. Se un giorno fosse un altro vorrei essere Dio, perché vorrei mischiare al paradiso un po' d'inferno. Così le persone non uccideranno più gli altri per andare in paradiso. Le persone non avranno più paure dell'inferno. Abiteranno in un mondo pieno di pace, di affetti, di speranza, di gioia, di amore. Di amore. Grazie. Grazie a tutti.